di due mesi dalla sua morte, lo vogliamo ricordare con queste immagini che si riferiscono all'ultimo saluto della sua gente, c'era tutta Cittadella poi al giorno dei funerali giustamente perché non era solo il presidente della città della calcio, era anche una persona molto importante e rispettata, ma Cittadella insomma dava lavoro anche a tantissime persone, vediamo questo servizio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti